TripAdvisor, il più grande sito mondiale di viaggi, ha annunciato i vincitori del Traveler's Choice Attraction 2013, i riconoscimenti assegnati in base alle recensioni e ai giudizi di milioni di viaggiatori. Napoli conquista il primo posto della classifica nazionale dei musei con la splendida Cappella Sansevero, destinazione italiana prediletta dai visitatori, che raggiunge anche il nono posto a livello europeo, decimo tra i musei italiani l'imponente archeologico nazionale. Nella classifica italiana dei parchi il Virgiliano è al quarto posto dietro i giardini pubblici di Taormina, il parco di Monza, il Valentino di Torino. Napoli si sta caratterizzando in modo molto positivo sul piano della cultura e del turismo, questo lo voglio dire, ne ho avuto un riscontro anche diretto nei giorni che sono stato negli Stati Uniti, è la quinta città per attrazione turistica secondo le statistiche internazionali, l'altro giorno ho incontrato alcuni albergatori che sono molto soddisfatti, vedo giovani impegnarsi sempre di più nelle attività del turismo, questo è un modo per far lavoro, per mostrare le nostre bellezze, è chiaro non siamo mai contenti perché dobbiamo sempre essere più bravi, più capaci, fare maggiore sinergia, ma i segnali sono molto significativi e importanti.